E' il primo derby. A metà strada tra Arpalonga e Roma, ancora non si è spenta la memoria, c'è stato il primo derby della storia tra SS Lazio e AS Roma. Scesero in campo tre tre steverini col cortello a rodato, li tre Orazzi, contro dei loro pronti tre cuiazzi, scelti come campion dei viburini. Al primo scontro fecero due a zero, perché feriti a morte di due Orazzi, a andare da botto al cimitero, l'ultimo Orazzi finse di scappà e ammazzò a uno a uno li curiazzi. Finì tre a due e non c'è buono stato.